Una nuova spina dorsale è quella della Fidelisandria che ha fatto ricorso al calciomercato di gennaio per cambiare volto e passo a una squadra invischiata nella lotta per non retrocedere. Lo confermano gli ultimi arrivi tra i pali. Ecco Emanuele Polverino, classe 97, l'anno scorso in campo per sette volte nel campionato di Serie C con il Bari, club che lo ha messo sotto contratto fino a giugno del 2024 e lui il profilo scelto dal direttore sportivo Mariano Fernandez per blindare una porta che nonostante l'alternanza di tre titolari, Vandelli, Savini e Zamarion, ha incassato 32 reti in 23 giornate di campionato. Polverino arriva in bianco-azzurro con la formula del prestito e con la voglia di ritrovare spazio e continuità dopo cinque mesi alle spalle di Caprile e Frattali nel gruppo allenato da Michele Mignani. Davanti a sé avrà un reparto rinnovato dagli arrivi di Ciro De Franco già convincente nella prima uscita ufficiale con la Fidelis contro il Taranto del 25enne maltese Jean Borg che morde il freno in attesa dell'esordio in bianco-azzurro e del 2002 Italo-Belga Edoardo Grosso arrivato in prestito dall'Arzignano Valchiampo con Milillo uno dei più contestati nella prima parte di stagione che ha fatto invece il percorso inverso risalendo il 352 di Bruno Trocini ecco alla voce nuovi arrivi che accanto a Daniele Marino under prelevato dalla Lazio e all'esterno Finizio arrivato dal Picerno trova posto anche Francesco Salandria classe 95 ma già veterano della C giocata con Acragas, Matera, Regina, Catani e Viterbese impiegabile sia da Mezzala che da Play ha scelto di tornare tra i pro dopo un anno e mezzo tra la Mezzia Terme e Cavesi indi con circa 50 presenze e due gol sarà a disposizione dello staff tecnico bianco-azzurro sin dalla trasferta di Picerno per completare il restyling della spina dorsale fermo restando le attese per un laterale in più a sinistra si attendono novità dall'attacco dove il DS Fernandez sta scandagliando anche il mercato estero sin qui sono andati via Scipos e Persichini e sono arrivati Ecuban e Ventola non ancora incisivi come nei desideri dei tifosi nelle prime uscite della Fidelis per dimenticare un digiuno di vittorie che persiste da 14 mesi ultimo blitz esterno il 28 novembre 2021 a Messina e salutare il penultimo posto all'Andria serviranno altri gol arriveranno di qui al 31 gennaio